Ha già una vittoria che vale forse più dei tre punti. Sì, siamo contenti. Per noi i play-off sono cominciati tre partite fa contro lo Zurigo, perciò sono veramente contento che siamo riusciti a spuntarla questa partita. Adesso avremo tempo per recuperare un pochino, poi domani ci sarà un'altra battaglia. Il tuo gol è arrivato in un momento particolare della partita, in un momento che forse il Friborgo stava giocando meglio di voi, però è venuto fuori questo gol che vi ha dato ancora più coraggio per iniziare bene anche nel terzo tempo. Sì, ma io credo che tutti i tre gol siano stati veramente importantissimi, sia il mio che quello di Greg e di Julien. Bisogna continuare su questa linea e sono convinto che lo faremo. Sembra che la squadra con Klaassen sia più compatta, subisce meno gol, sembra un po' più concreta. Sì, è un ottimo apporto per la nostra squadra, ma si sa che le sue mani non sono così comuni, perciò siamo contenti, lui gioca tantissimo per la squadra, siamo contenti così, però è importante che ci sia l'apporto di tutti i giocatori della squadra e tutte le cose andranno bene. L'ultima cosa, due trasferti, domani a Berna e martedì col Bienna, bisogna fare più punti possibili. È ovvio, mancano poche partite, siamo in una posizione in cui non siamo contenti, perciò non c'è tempo da perdere. Ti ringraziamo e bocca al lupo. Grazie. Ciao.